La visione, la prevenzione, ovviamente far tornare il concetto ambientale all'ordine del giorno del governo. Queste sono le primarie importanze che abbiamo portato qui al convegno. Parlare ovviamente di rischio sismico, di rischio idrogeologico, visione dei territori. Questo crediamo siano temi fortemente impattanti sulla vita di ognuno. Si parla ovviamente di sisma bonus, di eco bonus, ma soprattutto di rischio idrogeologico e della prevenzione che vogliamo mettere qui nei prossimi 5 anni. 6 miliardi sono il preventivo di spesa che vogliamo introdurre nelle prossime finanziarie. Abbiamo fatto il DL riordine dei ministeri. Significa prendere quelle dele che erano un po' sparse in tutti i ministeri e farle proprio del Ministero dell'Ambiente. Perché crediamo che il Ministero, nato soltanto nel 1986, sia uno dei più giovani, ma anche quello un po' più bistrattato rispetto agli altri governi. Significa dare centralità di nuovo ai temi ambientali, anche delle bonifiche, ovviamente del rischio idrogeologico, della visione da qui e nei prossimi 5 anni. Ovviamente fondamentale per noi è l'educazione ambientale, entrare fortemente nelle scuole, far capire ai nostri ragazzi dove si vive e qual è il rischio di vivere su un problema che sia rischio idrogeologico o rischio sismico. Far capire qual è la prevenzione che dobbiamo attuare nei prossimi anni. Ovviamente parlare anche di come costruire le case, che è un po' l'unica vera grande rivoluzione che possiamo fare. Viviamo ancora in centri abitati molto antichi e di questo vogliamo portare una visione diversa di come prevenire ovviamente i sismi attraverso la costruzione. Stiamo per completare la prima giornata nazionale della prevenzione sismica che ha visto coinvolti Consiglio Nazionale Ingegneri, Consiglio Nazionale Architetti, Rete delle Professioni Tecniche, ma in particolar modo la CRUI, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in un'azione di sensibilizzazione rivolta ai cittadini. Mi piace ricordare un po' i risultati di questa iniziativa che hanno visto un coinvolgimento di 7.000 professionisti in tutta Italia, 96 province, 500 piazze dove ingegneri e architetti sono scesi per svolgere attività di sensibilizzazione diretta ai cittadini, 180 ordini professionali, 75.000 unità abitative coinvolte direttamente nella verifica e valutazione di massima a livello qualitativo della vulnerabilità sismica dell'edificio. Quindi sicuramente è un'iniziativa che va ripetuta il prossimo anno e che mi auguro vedrà coinvolte a pieno tutte le categorie, soprattutto e in particolar modo i geologi italiani. Oggi si parla di rischio sismico in particolare, ma è chiaro che la nostra categoria è attiva su un fronte di rischi più generico, più generale, più complessivo. Giusto ieri abbiamo avuto quella drammatica notizia dello sprofondamento, della voragine sulla pontina, che rientra comunque a pieno titolo nei rischi. Recentissimamente Sicilia, Trentino, Veneto, le cronache sono, non dico quotidianamente, ma frequentissimamente piene di notizie che riguardano situazioni di pericolosità geologiche e quando poi coinvolgono beni esposti diventano rischi a tutti gli effetti. Come categoria ovviamente siamo attivi a livello di formazione universitaria, con contributi a corsi di specializzazione, con presenza nelle nostre scuole superiori per lavorare soprattutto sui giovani e trasmettere i modi corretti, virtuosi, di confrontarsi e di comportarsi in occasione di rischi, di piogge, di alluvioni, di eventi sismici come quelli di cui si parla oggi. Manca molto, manca moltissimo come cultura della prevenzione in Italia, un approccio concreto, manca anche una sostanziale e sostanziosa destinazione di risorse a queste politiche, manca anche una svolta culturale che al di là di tutto quello che viene spesso proclamato non è sostenuta poi da fatti concreti che seguono i proclami, le parole, gli slogan preliminari. Anche per quanto riguarda il sisma bonus è una misura assolutamente di prevenzione, quello che è stato destinato, a mio modesto parere, molto ridotto e rispecchia quella che è la considerazione poi dell'istituzione nel riguardo di tutte le politiche di prevenzione che sono sempre al centro, all'inizio, all'incima, l'agenda, la priorità politica in fase di ovviamente proposizione ma che poi una volta acquisito i risultati elettorali quasi sempre diventano poi nella classifica, nella parte destra per usare una metafora calcistica. Quindi le giornate come queste sono ben viste, ben sostenute da chi come noi si occupa veramente e realmente di prevenzione e l'auspicio è che al termine di queste giornate esca veramente un messaggio così forte da consentire questa inversione, questa svolta culturale che a mio parere, come ripeto, è ancora lungi a venire. La questione del rischio sismico è una questione centrale per il nostro Paese. È una questione centrale per questo motivo il nostro ordine insieme a quello degli altri ordini professionali a partire da quello degli ingegneri ma anche alla Fondazione Narcasta stiamo cercando di realizzare un sistema di collaborazione che ci possa portare a avere uno sguardo più chiaro e lucido su questa realtà e fare una sana pressione sul mondo della politica che deve incominciare ad avere una visione più ampia e coraggiosa per far sì che questa difficoltà possa diventare una grande occasione di rilancio per tutto il Paese da un punto di vista economico, sociale, abitativo ma anche, nel nostro caso, professionale nella speranza che delle professionalità di spessore possano mettersi al servizio della società con delle soluzioni adeguate alla difficoltà del problema. Io credo che il mondo della professione debba esso stesso avanzare delle proposte e in qualche modo sostenere la politica che comunque ha diverse difficoltà perché il nostro Paese ha comunque diverse difficoltà la questione rischio sismico è una di queste e forse è una delle principali e quindi questo convegno è stata è stata l'occasione per iniziare a dialogare e dobbiamo continuare a farlo per sostenere la politica perché poi in realtà la politica siamo indirettamente anche noi. Il mio contributo scientifico che è anche il contributo del mondo universitario è quello di portare elementi utili per la valutazione della pericolosità sismica pericolosità sismica che sostanzialmente si rifà a una pericolosità cosiddetta di base ovvero quella legata all'occorrenza dei terremoti alla probabilità di occorrenza dei terremoti di una certa magnitudo in un certo intervallo di tempo e devo dire che gran parte del territorio italiano è soggetto ad una pericolosità sismica da media ad elevata ad eccezione di piccole aree una per tutte ad esempio la Sardegna notoriamente ha relativamente bassa pericolosità sismica un altro aspetto fondamentale per il quale a livello universitario e anche dei centri di ricerca si sta lavorando molto è quello dello studio della pericolosità sismica locale ovvero gli effetti che i terreni più superficiali stiamo parlando di alcune decine di metri le influenze che questi terreni possono effettuare nei confronti delle onde sismiche perché noi ormai sappiamo bene che quando una scossa sismica e le onde sismiche arrivano alla superficie del terreno in funzione delle caratteristiche geologiche geofisiche di questi terreni noi possiamo avere delle forti variazioni dei cosiddetti fenomeni di amplificazione non solo ma possiamo avere anche degli effetti di deformazione permanente ovvero possiamo avere effetti di rottura del terreno fagliazione ovvero superficiale ovvero anche frane ma anche i famosi cosiddetti effetti di liquefazione che così eclatanti si sono avuti ad esempio nel terremoto dell'Emilia Romagna del 2012 parlando di ricerca e progetti di ricerca devo dire ahimè che per quanto riguarda ad esempio i progetti di rilevante interesse nazionale tutto è fermo da più di un anno e noi non sappiamo ancora oggi quali sono i finanziamenti se ci sono finanziamenti per le ricerche di base che appunto si svolgono nell'università ma anche nei centri di ricerca nel campo ad esempio del rischio sismico e questo sicuramente è un elemento come dire di freno, di difficoltà ciò nonostante gli studi e le ricerche vanno avanti anche in un contesto internazionale grazie a finanziamenti europei e certamente l'università e il mondo della ricerca in generale si stanno prodigando come sempre nonostante grossa scarsità di mezzi sia di risorse economiche ma anche di risorse umane e vale per tutti il discorso del famoso ricambio generazionale ovvero nuovi ricercatori nuove forze giovani che possano inserirsi ed essere inserite nel mondo della ricerca nonostante tutto questo devo dire che il contributo della ricerca ancora oggi è molto elevato molto qualificato e certamente è un attore fondamentale nel quadro della società italiana della conoscenza che consente di affrontare questo tema del rischio sismico in maniera più consapevole vorrei aggiungere una cosa e si rivolge ai cicli scolastici i cicli scolastici e in particolare il ciclo scolastico della scuola secondaria superiore i licei in cui praticamente ormai da dieci anni a seguito della riforma Gelmini della scuola lo studio delle scienze della terra è stato di fatto se non cancellato molto ma molto ridotto soprattutto agli ultimi anni appunto dei licei ormai le scienze della terra sono relegate a un posticino piccolo piccolo e gli studenti non conoscono e non sono a conoscenza dell'esistenza di una disciplina così bella e così importante proprio per la difesa per la mitigazione dei rischi che noi abbiamo in questo paese e che come ben sappiamo non sono solo il sismico ma sono anche il rischio cosiddetto idrogeologico ovvero da alluvioni e da frane ma anche il rischio vulcanico e che come benissimo e che come benissimo Grazie a tutti